Spero che mi sentiate, non sono molto pratico di questi mezzi, ma insomma spero che funzionino. La Pira nasce nel 1904 a Pozzallo, nel sud della Sicilia, più a sud di Tunisi, e viene a Firenze nel 1926 per seguire il relatore della sua tesi di laurea, che si spostò dalla Università di Messina a quella di Firenze. La Pira arriva da Pozzallo nel 1926 per seguire il suo relatore di laurea, che si è trasferito a Firenze dalla Università di Messina. Diventa professore di diritto romano già a 30 anni e rimarrà professore di diritto romano a Firenze fino alla sua morte. A Firenze naturalmente erano i tempi in cui c'era un regime fascista particolarmente attento in quella città e la Pira riuscì a far pubblicare per qualche numero una rivistina antifascista spacciandola come supplemento di una rivista dei Domenicani di San Marco, presso cui lui abitava. Appena la polizia fascista la individuò, la rivista venne chiusa, la Pira venne ricercata dalla polizia, dovette fuggire e fuggì a Roma dove si rifugiò nella città del Vaticano, dove in quel periodo molti antifascisti cristiani e non cristiani erano rifugiati. Dopo la liberazione lui viene eletto come membro dell'Assemblea Costituente, non un membro qualunque, ma un membro che sarà nella Commissione dei 75 a scrivere i primi articoli, quelli fondamentali, i principi fondamentali della Costituzione. Passiamo alla prossima slide. Nel 51 diventa per la prima volta sindaco di Firenze e lo sarà fino al 1965 con qualche breve interruzione dovuta alle turbolenze e alla politica italiana di quel periodo. Finito il mandato di sindaco, lui continuerà il suo lavoro per la costruzione della pace nel mondo come presidente di una federazione mondiale delle città unite, cioè le città che si erano gemellate tra loro per cercare di promuovere la pace. Però la Pira, dal punto di vista, siamo alla prossima diapositiva, è un uomo di profonda spiritualità, è un contemplativo tutto sommato e quindi si trova spinto in qualche modo dalle circostanze, dall'immediata dopoguerra, la necessità di ricostruire uno Stato democratico, all'impegno politico e quindi ad accettare questi incarichi che gli vengono dati. Scrive una cosa molto significativa dicendo che bisogna lasciare l'orto chiuso dell'orazione. L'orazione non basta perché non basta la vita interiore se non la si fa circolare all'esterno fino a fecondare la città dell'uomo, perché la società va trasformata. In altre parole, se si vuole bene alle persone bisogna fare politica. La politica non è un optional, non è un optional specialmente per un cristiano. Lui scrive anche una bella frase che forse dovremmo ripetereci molto spesso perché la tentazione di avere una brutta impressione della politica è una tentazione ricorrente. Lui dice che la politica non si deve dire quella frase così sciocca, la politica è una cosa sporca. No, la politica è un impegno di umanità e di santità. Allora, passando alla successiva slide, noi vediamo la Pira che intende il suo ruolo in politica come difensore di quei diritti sociali sanciti dalla Costituzione. Lui fa il sindaco per essere sindaco di tutti i cittadini, di chi l'ha votato e di chi non l'ha votato, ma in modo particolare da coloro che non hanno le spalle troppo larghe o la voce troppo forte per sapersi difendere da solo. E quindi difende gli ultimi, difende coloro che vedono negato il proprio diritto alla casa, al lavoro, eccetera, eccetera, e pronuncia in Consiglio Comunale, così passiamo alla prossima diapositiva, un discorso che è emblematico. perché dice, signori consiglieri, ve lo dichiaro con fermezza fraterna ma decisa, voi avete nei miei confronti un solo diritto, quello di negarmi la fiducia, ma non avete il diritto di dirmi, signor sindaco, non si interessi delle persone senza lavoro, senza casa, senza assistenza, perché questo è un mio dovere fondamentale, è un dovere che non ammette deroghe o discriminazioni. Prossima domanda, come nasce l'impegno di Lapira per la pace? Nasce perché la pace è sostanzialmente alla base di tutti, tutti i diritti di cittadinanza di cui parlavo prima presuppongono il diritto di base che è un diritto alla pace. Non è un caso che l'articolo 11 della Costituzione, quella che dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei problemi internazionali, era originariamente l'articolo 4, perché i costituenti, cioè Lapira e gli altri nella Commissione 75, l'avevano messo immediatamente dopo i primi tre articoli che sono i diritti fondamentali. La pace nega tutti i diritti. La diapositiva successiva e quella ancora successiva ci dimostrano in qualche modo che senza pace non ci può essere diritto perché non c'è politica, perché non c'è modo di giudicare, perché c'è soltanto una opposizione bianconero, non ci sono un diritto di coscienza. E quindi viene leso il diritto fondamentale dei cittadini. Ma in particolare Lapira, proprio in qualità di sindaco, e metto la prossima diapositiva, vede che il suo impegno internazionale deriva in particolar modo dal fatto di essere sindaco di una grande città. Molto spesso i detrattori di Lapira lo accusavano, ma di che cosa si interessa di pace, di problemi internazionali il sindaco? Il sindaco si deve occupare di giardinetti, di illuminazione, di fogli, eccetera, eccetera. Lapira dice sì, certo, c'è da occuparsi di tutte queste cose e lui se ne occupò in maniera veramente esemplare. Ma bisogna tenere presente che noi siamo chiamati ad amministrare delle città di cui noi non siamo i padroni. E non lo sono neanche le generazioni che ci hanno preceduto. Noi abbiamo ricevuto in prestito, in amministrazione, un bene, un tesoro che appartiene alle generazioni che verranno. Noi abbiamo il dovere di preservare e accrescere questi tesori e abbiamo il dovere anche di non distruggerle. Quindi proprio in quanto sindaco io devo promuovere le relazioni internazionali. Nella prossima diapositiva vedete una serie di immagini di un convegno che nel 1955 Lapira convocò a Firenze con i singandaci di tutte le capitali del mondo. Pensate, in quel periodo non era ancora riconosciuto da nessuno stato occidentale la Repubblica Popolare Cinese, eppure a Firenze in quell'anno venne il delegato del sindaco di Pechino, venne il sindaco di Mosca, venne il sindaco di Barsavia, il sindaco di Washington. Insomma, vennero i sindaci delle grandi città. E Lapira si occupò, fin dalla prossima diapositiva possiamo vedere come Lapira si caratterizzò sempre come operatore di pace e di dialogo. Il suo motto fu fin dall'inizio quello che occorre abbattere muri e costruire ponti. Questa frase lo hanno ripetuta certo non copiandola dalla Pira, ma comunque riecheggiandola in qualche modo sia Papa Giovanni Paolo II sia Papa Francesco negli ultimi tempi. E perché non si può lasciare la costruzione della pace come un impegno dei professionisti, dei ministri degli esteri, delle diplomazie che certo devono fare il loro lavoro, ma la pace è una questione troppo seria per lasciarla soltanto agli addetti ai lavori. Allora adesso ti chiediamo appunto un esempio specifico di pace, di Lapira. Sì, se andiamo alla prossima diapositiva, l'esempio che vi propongo è un esempio che per Lapira era centrale, cioè il problema della pace in Terra Santa. Noi vediamo quanto drammaticamente attuale sia ancora questo problema. Gerusalemme, diceva Lapira, è il fondamento di ogni pace, in primo luogo perché è la città sacra per la triplice famiglia di Abramo, cioè le tre grandi religioni monoteiste del mondo, gli ebrei, i cristiani, i messulmani. E proprio in Gerusalemme, malgrado tutto e malgrado tutti i problemi che ci sono in Gerusalemme e intorno a Gerusalemme, devono riuscire a trovare la loro unità proprio in questa città, la città della pace. Nella prossima diapositiva voi vedete che uno degli strumenti che subito Lapira utilizzò fu quello di allargare il discorso a tutto il Mediterraneo e creò questa organizzazione di colloqui mediterranei che periodicamente vennero convocati a Firenze con la presidenza onoraria del principe eritario del Marocco, da una parte. dall'altra c'era un appoggio ufficiale del congresso ebraico mondiale e poi Lapira non ralasciò mai di avere una costante attenzione da parte della Santa Sede. Questi colloqui erano colloqui tra persone che non rappresentavano ufficialmente i loro paesi o i loro governi, ma che erano persone influenti della politica o della cultura e che si ritrovavano intorno a questo nuovo lago di Tiberiade, come lo chiamò Lapira, per risolvere i problemi drammatici che si ponevano in questo mare. Il primo problema nel 1958 fu quello drammatico della guerra di Algeria che opponeva da anni ormai il fronte di liberazione nazionale algerino contro i colonialisti francesi. Ci furono dei momenti drammatici durante questo colloquio e sicuramente ci fu anche il timore che tutto il colloquio potesse fallire, ma con l'intervento sia del principe ereditario del Marocco sia di Lapira si riuscì a rifuscire queste grandi tensioni non tanto nelle relazioni ufficiali che si svolgevano nella sala, ma negli intervalli. Ci fu questo primo incontro inedito tra i rappresentanti del fronte di liberazione nazionale che i francesi definivano terroristi e qui rieghiamo qualche cosa che sentiamo anche ai nostri giorni, e i francesi. E da questi incontri nacquero poi gli accordi di Rian che due anni dopo crescero terminare la guerra di Algeria. Se andiamo alla diapositiva successiva, vediamo che Lapira fece un passo storicamente importantissimo, anche se oggi non ne percepiamo l'importanza, quello di considerare il problema della Terra Santa come un problema che aveva tre protagonisti, Israele, i paesi arabi e i palestinesi. Fino ad allora i palestinesi erano semplicemente considerati come dei rifugiati. Il problema era il rapporto tra Israele e i paesi arabi, come si era costituito, come si era creato al momento della guerra del 1948, subito dopo la costruzione di Israele. Lapira ha un numero incredibile di contatti con i capi di Stato, dei capi di governo e di tutta la regione. Molti viaggi in Medio Oriente, molti viaggi in Terra Santa in particolare e la sua tesi era quella appunto di fare dei palestinesi i protagonisti del dialogo con Israele, con il supporto certo dei paesi arabi, ma compierlo in prima persona. E su questo ebbe un'intensa corrispondenza con Arafat che mandò da lui un suo emissario particolare, un giovane intellettuale, Wiles Weiter, che fu convinto da Lapira a portare a Nasser, ad Arafat, scusate, la tesi che in questo momento, con una metafora che spesso Lapira usava, voi avete bisogno, voi palestinesi, avete bisogno di avere un tavolo e un telefono, un telefono da cui lei, presidente Arafat, possa telefonare e parlare alla pari con i vari capi di Stato. Questa tesi ovviamente era mal vista dalle forze più conservatrici, più di destra di Israele e quindi il giorno dopo l'ultimo colloquio che Lapira ebbe con Wiles Weiter, Wiles fu assassinato dai servizi segreti israeliani, dal Mossad. Nella prossima diapositiva mostro soltanto una pergamena con cui Betlemme conferisce a Lapira la cittadinanza onoraria e da questa cittadinanza onoraria nasce un'usanza che poi è diventata legge ancora valida. A quel tempo Betlemme era, come tutta la Cisjordania, sotto il dominio della Giordania. una legge che è ancora valida per cui il sindaco di Betlemme, qualunque sia il partito che amministra Betlemme, tra le tre comunità di ebrei, musulmani e cristiani, deve essere necessariamente un cristiano. termino questo discorso sulla Terra Santa ricordando che per Lapira il senso della storia è il senso, insomma tutta la storia umana è in fondo una storia, è la storia sacra. L'epoca storica presente è l'inevitabile incontro, dialogo e riconciliazione tra i popoli, in particolare tra i popoli di Abramo e quindi che cosa ci tocca a noi? Tocca preparare le vie che conducono i popoli di Abramo a incontrarsi, quindi levare le pietre d'inciampo e realizzare tutto quello che può facilitare questo pellegrinaggio che fa in modo che in ogni settore il muro che ancora separa il popolo di Israele dai popoli arabi sia abbattuto e perché la pace torni davvero a prendere sede stabile nella città della pace, Gerusalemme, perché il fine della storia, dice Lapira, è lo shalom del padre. Passiamo alla prossima domanda e per la sicurezza europea, cercando di entrare più anche nel vicino nostro, ecco. Nella sicurezza europea, se proiettiamo la prossima diapositiva, vediamo che una incredibile iniziativa di Lapira del 59 fu quella di andare a Mosca. Perché un'incredibile iniziativa? Perché in quel periodo nessun intellettuale, nessuna persona di spicco della cultura o della politica, andava nei paesi comunisti che non fossero membri dei partiti comunisti occidentali. Nessuno era andato lì perché Mosca era considerato l'inferno, era considerato l'impero del male, anche se questa frase impero del male sarà poi coniata dal presidente Bush tanti anni dopo. E Lapira va lì e una delle sue prime mosse è quella di andare al santuario di Zagorsk. Il santuario di Zagorsk è dove c'è la tomba di San Sergio e al Soviet Supremo lui fa un discorso che sostiene che malgrado che ci dividano delle storie, delle culture, ci dividano delle scelte di carattere economico e politico. Noi dobbiamo riconoscere che noi all'este e all'ovest abbiamo tutti un comune programma, quello di dare ai nostri popoli pace, casa, lavoro, scuola, ospedale e ricostruire, e questo lo dice proprio nella che era la capitale dell'ateismo in quel momento, ufficialmente, e ricostruire ovunque e riaprire le chiese e le cattedrali. Soltanto così il nostro ponte di pace tra Oriente e l'Occidente diventerà incrollabile. Nella prossima diapositiva vediamo che la Pira cura in quel periodo, in quel viaggio, non soltanto i rapporti di carattere politico, ma anche quelli dettati dall'ecumenismo. Lui incontra in metropolita di Mosca il patriarca era molto anziano e non sostanzialmente era in motriopolita quello che faceva le veci del patriarca e poi anche le autorità ortodosse nel santuario di Kiev. da quell'incontro che poi la Pira fece anche con Nicodemo che poi sarà quel patriarca e morirà proprio in un'udienza con Papa Giovanni Paolo I iniziò un discorso, un dialogo difficile e alterno tra la Chiesa cattolica e la Chiesa di Mosca. Naturalmente di rientro in Italia fioccarono le polemiche da parte di tutti i giornali di destra e non solo anche con i conservatori la conservatrice della demogra cristiana nella Curia ma il il discorso di la Pira restò in piedi e utilizzò successivamente un altro strumento molto simile a quello dei colloqui mediterranei nella prossima diapositiva vedete alcune alcune immagini di incontri delle tavole rotonde est-ovest anche questi erano incontri informali tra intellettuali e politici dei paesi della Nato e del patto di Varzavia ecco il lavoro era mantenere aperto un dialogo che vedete il il confronto soltanto formale lo scontrarsi muro contro muro poteva essere molto pericoloso proprio perché il le due potenze detenevano la potenza nucleare e l'armamento nucleare quindi il mantenere aperta una porta di sicurezza una porta di dialogo fu quello che rese possibile poi nell'89 alla caduta del muro di Berlino la uscita da quell'incubo che per la mia generazione era stata quella il il terrore della della ecatombe nucleare alla fine se andiamo alla prossima diapositiva questo discorso fu continuato dalla Pira come lo dicevo all'inizio come presidente della federazione mondiale delle città unite fu il presidente del Senegal Leopold Senghor insieme ad altri personalità internazionali che fecero pressioni sulla Pira perché accettasse la presidenza e lui si fece promotore di una operazione molto semplice spingere le città dell'est e dell'ovest a stringere dei gemellaggi per mantenere aperte queste porte di dialogo dialogo culturale dialogo anche economico che in qualche modo mantenessero aperte le possibilità della pace e tutto questo processo portò a quella conferenza di Helsinki andiamo alla prossima diapositiva che anche oggi è talmente attuale perché sarebbe proprio con il ritorno alla conferenza di Helsinki la possibilità di costruire un pacifismo politico che assicuri alla travagliata Ucraina come dice sempre il nostro Papa una pace che sia una pace permanente e giusta la cooperazione di Helsinki è il punto di partenza per costruire una nuova struttura del mondo una nuova struttura che sia disarmata in primo luogo disarmata dal disarmo nucleare pacificata libera e giusta giusti per tutti perché giustizia e pace giustizia e paz è il titolo della della che il concilio ha voluto dare a una alla alla sua ehm il movimento deve dire eh è qualche cosa che non è un un'utopia ma è un modello che l'Europa dovrà esportare nel mondo con un eh una forza di negoziato che deve ampliarsi sempre di più veniamo alle conclusioni così conclusioni conclusioni eh la lezione di Lapira nella prossima in questa diapositiva io ho scritto che la lezione di Lapira consiste in due in due cose la sua visione e la sua concretezza eh se non c'è la visione dice la prossima diapositiva se ci si limita a inseguire il consenso cioè si crede di governare con i sondaggi di opinioni non si raggiunge nessuno scopo Seneca dice nessun vento è favorevole per il nocchiero che non sa dove andare d'altra parte andiamo alla diapositiva successiva se manca la concretezza allora se manca la conoscenza dei problemi se non se manca l'indagine sulle sui mezzi che possono servire a risolvere questi problemi ci simila soltanto a far murare degli auspici senza incidere sulla realtà Dixie e Zervavi anima a me ho detto e così mi salvo l'anima ma noi sappiamo bene che il Vangelo ci insegna che chi vorrà salvare la propria anima e basta non finirà per perderla nella prossima diapositiva ho messo un po' un discorso che dice che l'unità l'utopia profetica di Giordio della Pira di cui molto spesso si è parlato consiste proprio nella sintesi di questi due elementi la Pira era certamente un uomo di visione che vedeva lontano non un visionario come lo accusavano i suoi detrattori e lui rispondeva dicendo i veri realisti siamo noi siamo noi perché chi non è realista chi è drammaticamente utopista è colui che si illude di risolvere dei problemi totalmente inediti con dei metodi assolutamente vecchi l'ipotesi di lavoro in cui si fondava la visione della Pira ritorna a quello che dicevo all'inizio è basata sulla teleologia della storia cioè sulla rivelazione il Cristo tornando al Padre attirerà tutto a sé ce l'ha detto e quindi in Cristo risorto e acceso al cielo si realizzerà in un modo che non è dato a noi sapere e con dei tempi che non è dato a noi di conoscere l'unità dei popoli e l'unità della Chiesa la Pira è dicevamo all'inizio profeta di speranza e nella prossima ripositiva leggete il motto paulino spes contra spen e la Pira diceva occorre coniugare una speranza teologale che è arriva è escatologica in un certo senso con le speranze umane che sono la speranza del giorno per giorno e citava spesso due versi di un poeta minore francese che diceva è di notte che è bello credere alla luce credere alla luce di giorno non ci vuole nessuna fatica non ci vuole nessuno sforzo è la notte che bisogna credere alla luce ma non basta crederci il secondo verso dice bisogna forzare l'orora a nascere credendo in essa e questo è un po' il senso dell'impegno di la Pira vorrei concludere leggendovi nella prossima diapositiva una bellissima frase scritta dall'onore Helder Camara l'arcivesco di Olin del Recife che fu grande amico di la Pira anche se si conobbero soltanto quando l'arcivesco Camara venne in Italia per il per il concilio e Helder Camara scrive nessuno ha il diritto di ascoltare la Pira e accontentarsi di applaudirlo l'unico omaggio che gli si può rendere consiste nel non risparmiarsi nel rischiare nell'adoperarsi perché la giustizia e l'amore aprono la strada alla pace colui che non vuole uscire dall'egoismo dal perbenismo dalla viltà non ha diritto di ascoltare la Pira sono parole pesanti come i pietri vi ringrazio per la vostra attenzione grazie davvero grazie ancora forse abbiamo tempo due minuti per una domanda perché il tempo purtroppo la serata è molto lunga e ci sono altre cose però una domanda dal pubblico più coraggioso che si vuole è sempre difficile rompere il ghiaccio faccio una domanda io com'era personalmente la Pira la Pira era una persona che oggi è di moda dire persona solare nel senso che rispiecchiava proprio nel suo sguardo la la sua speranza la sua la sua certezza che le cose malgrado tutto finiranno per andare per andare bene una cosa che diceva spesso era ragazzi cose grandi va tutto bene va tutto bene nel senso che malgrado la storia ci presenti ogni giorno e purtroppo oggi è ancora più difficile ancora per noi difficile in queste drammatiche immagini che tutti i giorni la televisione ci mostra è sempre più difficile riuscire a sperare che malgrado tutto la storia va verso la luce e non verso l'eterno io credo veramente che dovremmo sperare talmente forte nel fatto che la pace finisce per essere inevitabile perché non c'è alternativa alla pace che dovremmo batterci anche a livello politico per dire basta ora basta basta la guerra cessino le armi c'è la possibilità e il negoziato di Helsinki come che citavo prima ce lo dimostra di mettersi intorno a un tavolo e lavorare senza pregiudizi per una pace che sia basata su quei principi che nel 1975 dei governi e degli stati che erano ancora più opposti gli uni agli altri di quanto non siano gli altri furono capaci di fare non dobbiamo lasciare che i mercanti di morte come ha detto Papa Francesco qualche giorno fa abbiano la abbiano vinta la pace dovrà vincere anche con quel colpo di remi alla barca della storia che la Pira diceva ciascuno di noi deve dare grazie ancora ancora un applauso ti lasciamo andare perché so che hai un impegno alle 10 sì purtroppo devo andare vi saluto vi ringrazio ancora una volta e vi auguro buon lavoro per proseguire la strada grazie arrivederci arrivederci arrivederci